Zeppolina e frutti di bosco, check! Iniziamo a portare ad ebollizione acqua con burro, scorza d'arancia di limone e sale. Buttiamo la farina a pioggia, mescoliamo prima con una frusta e poi con un mestolino di legno. Quando si stacca dalle pareti è pronto, lo lasciamo raffreddare. Una volta freddo lo mettiamo in planetaria con la frusta a foglia e iniziamo ad aggiungere un uovo per volta, mi raccomando, un uovo per volta. Dopodiché ci possiamo dedicare alla crema pasticciera. Quindi sbattiamo le uova con lo zucchero, scorza di limone e d'arancia, aggiungiamo la farina, buttiamo tutto dentro il latte caldo, mescoliamo bene bene e togliamo dal fuoco quando avremo raggiunto la densità che più ci aggrada. A questo punto siamo pronti per preparare le nostre zeppoline. Questo che vedete è l'impasto pronto, lo mettiamo nella sacca poche e iniziamo a formare con la punta stella queste zeppole. Io ho già preparato le cartine perché poi vanno fritte. Portiamo a temperatura il nostro olio per frittura e iniziamo a figgere le nostre zeppoline. Una volta fritte le mettiamo in carta assorbente e possiamo farcire. Io ho utilizzato, come vi ho detto prima, la crema pasticcera aromatizzata arancia e limone e poi ho aggiunto questi frutti di basco sciroppati golosissimi che non tocco in più. Quindi buona festa del papà a tutti da Frolina, vi aspetto sul blog YouTube Instagram insomma tutta!